PAK 2000A, società del mondo CONAD, siamo la cooperativa più grande del mondo CONAD, 3 miliardi e 500 milioni di fatturato di sell out, 2 miliardi e 6 di sell in. La nostra azienda copre tutti i settori merceologici, dal Margherita, quindi piccolo negozio di prossimità, fino all'ipermercato, avendo anche come unica azienda il mondo CONAD e quindi l'abbiamo passato come format i discount, quindi conosciamo bene anche il format discount. Coltodis. Coltodis, esattamente. 3 mila e 400 casse e mille negozi, più o meno. Noi siamo ormai una società liquida, non ci sono più stereotipi precedenti, cancelliamo totalmente tutto. Incominciamo a ragionare che stiamo vivendo una società che ha una velocità pazzesca, no? Alcuni studiosi parlano di turbocapitalismo, qui stiamo parlando di turbosociità. Siamo una società che cambia consumi, cambia modalità, cambia approcci al mercato e alla vita. Le vivo tutti i giorni le trasformazioni e riprendendo l'innovazione, è vero, la modernità sta in innovazione, però non deve essere solo una moda, cioè deve portare produttività. È successo che un mio associato mi chiama e dice noi abbiamo avuto i NAS e mi vogliono chiudere tutto. Come ti vogliono chiudere tutto? Sì, perché una si è sentita ma è stata portata all'ospedale. Come possiamo fare? Partiamo dal controllo, magari gli altri che hanno comprato quel prodotto, perché ne hanno venduti alcuni, magari hanno utilizzato la Fidelity. Vediamo se attraverso la Fidelity riusciamo a trovare chi è stato a prendere. A risalire con altri. Ci siamo riusciti, gli altri stavano tutti bene. Una buona notizia. Una buona notizia. Quindi magari c'era un'allergia per quella persona o altri problemi, quindi comunque i NAS hanno detto ok. Però da lì è nata l'esigenza. Io voglio tutto, voglio tutto, non mi basta più il registro. Voglio i lotti, eccetera. È stato un lungo lavoro, siamo quasi giunti alla fine, adesso siamo in sperimentazione. Abbiamo creato uno strumento, grazie al nostro fornitore, con cui abbiamo lavorato chiaramente in partenariato, che traccia tutto, cioè fa le foto del lotto, del prodotto, già ci sono tutti i ricettari, quello che va messo. Quindi qualsiasi cuoco che entra dentro il laboratorio può vedere quali sono i prodotti che sono dentro. Poi al consumatore ci sarà il totem o il touch che dirà, guarda, qui ci sono questi allergeni, questo piatto viene composto così e addirittura potrà ordinarlo, dire tra 30 minuti ripassa, che te lo do. E poi ho fatto aggiungere anche un'altra cosa che tra un po' secondo me utilizzeranno, perché ho creato proprio la distinta base. Cioè sapere per ogni prodotto quant'è la quantità, quant'è la grammatura, sapere quanto è il costo e quindi quanto devi ricaricare sul singolo piatto. Quindi da un problema credo che abbiamo creato innovazione. E' chiaro, ancora avrà bisogno di alcune modifiche, però il nostro responsabile delle allerte sanitarie, della qualità, ha già detto, beh, bello, perché se io pigio il tasto so già in quale lotto è stato utilizzato in quel piatto. Cioè è questa la cosa, è chiaro, siamo solamente su due punti venti adesso, però normalmente quando poi le innovazioni piacciono si espande molto velocemente. Cioè è questa la cosa, è questa la cosa, è questa la cosa.